caro imprenditore ti do il benvenuto in questo nuovo video dedicato alle pillole di efficacia fiscale dove condivido con te le soluzioni fiscali che propongo ai miei clienti durante le consulenze oppure a tutti i miei clienti che accedono al servizio di contabilità controllata bene oggi insieme a te voglio trovare insomma voglio contestualizzare meglio uno strumento di efficacia fiscale che alcune volte magari non è applicato al meglio e te lo faccio con un caso proprio che mi è capitato oggi durante una consulenza lo strumento di efficacia fiscale che voglio parlarti oggi è il fatto che tutti gli imprenditori che magari sono soci operativi e hanno anche per altri motivi un contratto di lavoro a tempo full time ecco che questi praticamente non hanno bisogno di pagare l'inps commercianti perché comunque l'inps non vuole i contributi da parte di un socio o comunque di una persona che ha già una busta paga a tempo pieno ok per un principio diciamo di lavoro prevalente siccome l'inps diciamo ci fa pagare i contributi solo sulla cassa che è prevalente se un socio lavoratore in sostanza anche un contratto per altri motivi a tempo full time allora questo socio non paga i contributi inps commercianti bene però cosa succede succede che effettivamente nella nostra attività normali come imprenditori non ci sono solo attività commerciali ok ci sono anche attività artigianali ed è questo il caso che mi è capitato no e quindi oggi con successo mi è arrivato insomma una cliente che ha un centro estetico e di fatto abbiamo parlato anche della soluzione che gli aveva diciamo proposto il suo commercialista ossia che loro sono quattro socie tutte quante al 25 per cento e nel caso stavano valutando di poter assumere due ragazze socie lavoratrici a tempo pieno in questa srl artigiana appunto come centro estetico bene e tecnicamente qual è il problema qui in questo caso è che anche se tu hai un contratto di lavoro a tempo pieno però sei diciamo iscritto o iscritta in questo caso all'inps dell'artigianato insomma che comunque è molto simile all'inps commercianti ecco che purtroppo questo inps artigiani non si può eliminare nel momento in cui hai una busta paga a tempo pieno ok quindi in sostanza quando tu hai un srl commerciale paghi l'inps commercianti a rate fisse poi eventualmente quello occidente minimale puoi evitare tutto questo se è una busta paga a tempo pieno purtroppo nel caso in cui tu hai un'attività che rientra nell'ambito dell'artigianato o magari per qualche motivo questa società è obbligata ad iscriversi all'albo degli artigiani ecco che tu non puoi toglierti questo inps artigiani nel momento in cui tu hai una busta paga a tempo pieno e quindi questo è quello che devi stare attento ovviamente io alla mia insomma cliente gli ho proposto altre soluzioni che puoi benissimo scoprire anche te accedendo a una consulenza di efficacia fiscale insieme a me ok ma quello che ti voglio dire è che quando tu su internet di fatto leggi l'opportunità di avere un socio lavoratore che ha una busta paga a tempo pieno e quindi che elimina completamente l'inps commercianti l'inps rate fisse ecco che questa cosa ricade solo per quanto riguarda l'inps commercianti purtroppo l'inps per quanto riguarda l'artigianato non si può eliminare anche se tu hai una busta paga a tempo pieno e questa cosa ovviamente è molto importante per te perché dove tu puoi ovviamente non devi ricadere nel mondo dell'artigianato anzi è questo poi il mio punto di vista questo è un altro ulteriore elemento evidente no che purtroppo dimostra che nell'ambito dell'artigianato ci sono meno strumenti di efficacia fiscale ok perfetto quindi ora che sei questo sai che dove puoi scegliere in qualche modo se svolgere un'attività come SRL nell'ambito di un'attività commerciale insomma di un'attività legata al mondo dell'artigianato ovviamente devi scegliere un'attività nell'ambito del commercio perché nel caso in cui i soci in qualche modo svolgessero un'attività come dipendente a tempo pieno possono effettivamente eliminare i contributi inps ok cosa che non potrebbero fare nel caso in cui l'attività fosse nell'ambito dell'artigianato ok perfetto quindi detto questo ovviamente ci sono tanti altri strumenti di efficacia fiscale che tu puoi utilizzare per ridurre le imposte e contributi grazie alla tua srl e che puoi benissimo scoprire da solo facendo delle ricerche su internet oppure puoi andare sul mio sito www.efficaciafiscale.com e scaricare un manuale completamente gratuito con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale dove troverai le principali strategie fiscali che tu imprenditore puoi utilizzare per abbattere al minimo del possibile le imposte e dei contributi utilizzando la legge a disposizione detto questo ti ringrazio dell'attenzione e noi ci aggiorniamo alla prossima puntata ciao a presto